Il Covid è arrivato anche nel carcere di Taranto, sei i casi registrati fino ad ora, ma vediamo che cosa cambia nel già complesso paradigma degli istituti penitenziari. Gli ultimi due positivi risalgono al 31-12-2020, erano due detenuti nuovi giunti. Che cosa accade? Che all'interno di questa zona Cuscinetto, il carcere di Taranto dispone di 12 celle, all'interno di 12 stanze di perdontamento all'interno di questa sezione, i detenuti arrestati dopo il primo triage di primo ingresso sostano all'interno di questa sezione isolati per 72 ore. Fanno il primo tampone, noi tramite l'ASL di Taranto siamo stati abilitati all'esecuzione dei tamponi. Se il tampone dovesse risultare negativo, permangono ulteriori 96 ore, fanno un ulteriore tampone, dopodiché entrano a vita in comune. Se il detenuto dovesse risultare positivo, viene trasferito in una zona cosiddetta rossa, che si trova all'interno dell'infermeria della struttura penitenziaria. Attualmente abbiamo due celle in zona rossa e il detenuto poi viene gestito come un positivo Covid a tutti gli effetti, cioè in carico all'area sanitaria con le OS e il personale infermieristico. La direttrice negli anni non lo ha mai nascosto, le carceri soffrono di sovraffollamento e carenza del personale e adesso ha comportato un aggravio nell'ambito della gestione della popolazione detenuta. Da marzo sospensione di tutte le attività trattamentali con le associazioni, attività scolastiche fermate o convertite a distanza, stop anche ai colloqui tra detenuti e familiari inizialmente, poi ripresi ma divisi da un pannello in plexiglass. Possono fare tre colloqui al mese, il luogo delle sei ore di colloquio concesse, le telefonate WhatsApp sostitutive dei colloqui visivi.